Un lignone in tonaco si è staccato da un solaio di una scuola, l'Istituto De Cecco di Pescara. Sono stati feriti in maniera non grave tra ragazzi, dieta compresa tra i 15 e i 17 anni. Colpiti alla testa hanno riportato numerose contusioni ed escoriazioni. C'è il fenomeno della carbonatazione dei ferri di armature, per quanto emerso dai primi accertamenti che i vigili del luogo hanno effettuato all'interno dell'edificio risalente agli anni 50.